Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Foggio 56 e oggi siamo in un nuovo video come potete vedere per la prima volta siamo su Roblox e oggi faremo la modalità della della forza ma non ero così grande ovviamente se cea già sommato vita di consigliate che giocato in giro che giocato mi chiamo errore 97 è un po' più sicuro, o lo dice sicuro perché non lo trovavo è un po' più sicuro 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 è un po' più sicuro